So che hai girato quasi 20 film e su questa bella filmografia ci sono due momenti in cui hai incontrato molto cose, all'inizio poi un po' più avanti nella cattiva, all'inizio hai lavorato come riccone su tre film, la famosa filosofia degli animali e ovviamente la prima domanda che mi viene e che mi sembra un po' odia, cioè di capire come mai hai cominciato a lavorare nel cinema, hai fatto la prima regia, la seconda, la terza, lavorando sempre con questo musicista che era già famoso, come sei arrivato a lui e come avete lavorato insieme. Ma io l'ho conosciuto perché ho scritto con Bernardo Bertolucci il soggetto del film C'era una volta il West e così l'ho conosciuto a casa di Ennio Moripoli, di Sergio Leone, di cui dall'altro quest'anno, anzi ieri, cadeva il trentesimo anniversario della sua scomparsa, mi fa veramente un grande dolore pensarsi che è morto così giovane. mi spiace che nel festival non è stato così noturato abbastanza Sergio Leone. Cittone adesso. Posso scoprire Ennio Moripoli? Vabbè, in ogni modo, perché diventa Ennio Moripoli naturalmente. Allora, così ho conosciuto Ennio lì a casa di Sergio, abbiamo fatto amicizia, abbiamo parlato di musica, di tante cose, poi io ho fatto il mio film dopo due anni. e ho chiesto a Ennio se avrevesse voluto fare la musica del mio film. Lui naturalmente ha avvicinato a filmoni, film giganteschi, il mio era un piccolo film. All'inizio non ero sicuro che l'avrebbe accettato, allora mio padre è intervenuto, che è l'amico di Sergio, cioè di Ennio. Hai potuto vedere il film. Sì, hai potuto vedere il film. E così, alla fine Ennio ha accettato. E ha fatto una musica, cioè, veramente eccezionale per quel film. Perché, per la prima volta nella sua carriera, ha fatto una musica improvvisata. Perché nel film, a parte che ci sono alcune melodie e altre cose piccole, per il resto tutto il film è tutto musica improvvisata. Loro si riunivano in questa sala dei concerti e un gruppo, il gruppo di Ennio, la nuova sinfonia. E Ennio suonava la tromba, perché lui è lavorato in tromba e in composizione. Si sente la sua tromba nel mio film moltissimo. Quindi si mettevano là, noi passavamo alle scene del film, una scena, e loro improvvisavano. Quello che gli veniva in mente. Se Ennio non era soddisfatto, la rivacevano. E così è stata fatta, per la prima volta, per una delle prime volte, musica improvvisata per un film. Veramente. Poi in seguito è stata l'ispirazione anche per Quentin Tarantino, che anche lui ha fatto della musica improvvisata per un suo film. E anche per altri registi. Ma è stato, penso, uno dei primi film con musica improvvisata. Ha continuato con gli altri due, cioè il Gatto a Nove Cote e Quattro Mosche, di Venuto Grigio. Ha improvvisato? No, non ha più improvvisato. Niente. Quella è stata l'unica, la prima, l'unica volta che ha improvvisato. Ha fatto questo regalo bellissimo. perché per me era stata una cosa entusiasmante vedere come il film nasceva con questa musica che loro vedevano, vedendo le scene, darlo, volentavano, era stata bellissima. Io ho fatto cinque film come meglio, oppure come cinque, non tanti, cinque. Tu assistivi, assistivi al registratio, cioè alla composizione improvvisata, tu eri presente? Sì, 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 è un esercitissimo. Dove accadete? Era nella... all'RCA a Roma. L'RCA si riuscìva in questa sala e si faceva questa musica improvvisata. I musicisti erano numerosi? No, erano, penso erano sette, otto persone. erano numerosi gruppo su Nuova Sinfonia, appunto, che era il suo gruppo di musica di potenza.